14 pazienti ricoverati in terapia intensiva, reparto del Cardarelli oltre il limite, il DG Asrem Florenzano in diretta nel TG spiega che ci sono altri 7 posti del blocco operatori. Intanto un altro bollettino di guerra, due decessi, nove ricoveri e 88 nuovi positivi. Dove sono i vaccini contro l'influenza? Il dottor Tartaglione, responsabile regionale dei medici di famiglia, sollecita Asrem e Regione Toma in distribuzione 9.000 dosi, altre 15.000 giungeranno dalla campagna. Di apertura in presenza delle scuole in Molise si va a Singhiozzo, per la FLC CGL servono tamponi rapidi e interventi sui trasporti pubblici. A Isernia i genitori si rivolgono ad Apollonio, certi che ci siano le condizioni di sicurezza. Omicidio stradale, arrestato un imprenditore di 37 anni di cassino, titolare di diversi negozi in Molise, in particolare a Isernia. Organizzava incontri con sesso a pagamento, nei locali che gestiva cinquantenne di Termoli torna in carcere, dovrà scontare altri due anni e undici mesi per sfruttamento della prostituzione dopo la condanna in appena. Infine lo sport, il basket di serie a femminile alla molisana Magnole a Campobasso, non basta il cuore per evitare la sconfitta in casa del sesto San Giovanni, Sabatelli con poche rotazioni, finisce 89 a 73. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso, l'avete sentito dai nostri titoli, parleremo del coronavirus, dell'ultimo bollettino, ci sono altri due decessi, parleremo dei comuni più interessati dal virus. Prima però analizziamo l'emergenza sanitaria e lo facciamo con il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenziano, che è in collegamento, in diretta con noi. Direttore, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a voi. Senta, terapia intensiva ha superato il limite dei 12 posti letto, ora i pazienti sono 14, state utilizzando le postazioni del blocco operatorio e ancora, direttore, quanti altri posti di rianimazione Covid sono disponibili? Sì, noi abbiamo attivato gli ulteriori posti di terapia intensiva, che sono sette, e sono appunto in sicurezza, nel senso che sono tutti posti attivi per la terapia intensiva, dotata di tutte le strumentazioni necessarie. La criticità che permane è il numero del personale, in particolare degli anestesisti. E quindi stiamo fronteggiando questa situazione, alla quale comunque eravamo preparati. Senta, direttore, io con lei vorrei parlare anche del caso Tramontano, la denuncia di ieri del consigliere comunale di Campobasso, che ha detto mio padre in coma trasferito da Campobasso a Esernia. Questo certifica che al Cardarelli vengono curati solo i pazienti affetti da coronavirus? Adesso è così? Allora, precisiamo bene, il Cardarelli continua a funzionare. Per quanto concerne le terapie intensive, ricorderete che noi avevamo sdoppiato il reparto di terapia intensiva con sei posti letto Covid e sei posti letto non Covid. La situazione attuale ha visto l'impegno totale dei posti letto di terapia intensiva, tranne che per le emergenze, per curare i pazienti Covid. Quello che è importante rimarcare è che i pazienti vengono stabilizzati e poi trasferiti nelle strutture adiacenti. Le strutture adiacenti possono essere sia le strutture ASREM che anche strutture non ASREM. È chiaro che la scelta e la modalità del trasferimento attiene alla scienza medica e quindi è deputata alla scelta dei medici. Senta, direttore, perché Isernia e non il Gemelli? Ecco, un'altra cosa che chiedeva Tramontano, no? Perché il trasferimento ad Isernia e non al Gemelli di Campobasso? Le ho risposto, è una valutazione di tipo medico che viene operata dal personale medico che stabilisce dove e in quale condizioni trasferire i pazienti. Sento, un'ultima cosa, anzi, le chiedo un'altra cosa ancora. Intanto, Tramontano diceva che in estate probabilmente si è perso del tempo. È così? Forse un po' tutti abbiamo pensato che il peggio fosse superato? Assolutamente no. Potete rivedere tutti i nostri appelli e tutte le iniziative che abbiamo posto in campo. Quindi assolutamente non si è perso tempo in estate. Se il riferimento è all'arezzata a questo di individuare la Rino piuttosto che un'altra struttura per la cura dei pazienti Covid, è bene sottolineare per l'ennesima volta che la decisione è stata una decisione ministeriale valutata sull'analisi del progetto e sulle normative vigenti, le quali prevedono che tali strutture devono essere nelle adiacenze delle strutture ospedaliere con a disposizione tutte le specialità mediche che possono occorrere per curare i pazienti Covid, i quali hanno il Covid ma possono anche avere altre patologie e altre necessità di immediato intervento. Il tempo non si è perso. I tempi sono stati dettati poi dalle scelte ministeriali. Ricorderete tutti che ai primi di novembre finalmente è stato dato il via libera. Stiamo attivando e stiamo procedendo con i lavori per... Ecco, direttore, la tempistica è quello che interessa molto le persone, molto i molisani. La tempistica verrà rispettata e cosa ci sarà all'interno del Covid Hospital? La terapia intensiva? Ci saranno anche altri posti? Ci sarà il pronto soccorso? Cosa ci sarà? Ci saranno nove posti di terapia intensiva e 21 posti di subintensiva, quindi di malattie infettive. Il cronoprogramma lo abbiamo declinato in quattro mesi, stiamo lavorando per rispettare questa data e abbiamo posto ovviamente come priorità la realizzazione di questa opera. Grazie, grazie ad Oreste Florenzano, direttore generale dell'ASREM. Grazie per aver risposto alle nostre domande, direttore. Buona giornata. Grazie dunque a Florenzano. Ora il bollettino, dicevo un altro bollettino di guerra perché ci sono due decessi, ci sono 88 positivi, 9 nuovi ricoveri, tutti i particolari del servizio. Due decessi, 9 ricoveri, 5 dimessi, 88 positivi sono i numeri dell'ultimo bollettino dell'ASREM sul coronavirus. Ieri sera non ce l'ha fatta un 79enne di Larino ricoverato in malattie infettive, poco prima la morte di un 85enne di Campobasso che era nello stesso reparto. I deceduti dall'inizio della pandemia salgono a 119. 9 i nuovi ricoveri, 1 in terapia intensiva con il reparto oltre soia, sono 14 i degenti curati dallo staff del dottore Flocco che ora sta utilizzando anche i posti letto del blocco operatorio. 8 malattie infettive con il totale che raggiunge quota 61, 2 dimessi, 8 guariti, 88 invece i nuovi positivi. 14 a Termoli, 13 a Isernia, 7 a Campobasso, 6 a Boiano, 4 a Cerro il Volturno, Pesco Lanciano e Sessano del Molise, 3 a Colle d'Anchise e Ferrazzano, 2 casi a Campomarino, Carovilli, Fornelli, Riccia, Sanda, Gapito, Vasto, Girardi. Un caso ad Agnone, Calvi, Risorta, Campo di Pietra, Carpinone, Castel del Giudice, Limosano, Macchia Godena, Montaquila, Palata, Pietracatella, Pozzilli, Rocca, Vivara, Salcito, San Severo, Scapoli e Venafro. 2.780 i casi attualmente positivi, 762 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, 85.198 dall'inizio della pandemia. Ed ora vediamo i comuni più interessati dal virus. Iniziamo dalla provincia di Campobasso, abbiamo scelto i primi 8 comuni. Allora, il capologo di Regione con 399 casi, Termoli 281, Boiano 92, Larino 62, San Martino in Pensilis 52, Cerce Maggiore 48, Campomarino 42, Vinchiaturo 41 casi positivi. Ci spostiamo ora in provincia di Iserni, il capologo Pentro con 337, Venafro 95, Montaquila 88, Castelpetroso 46, San Agapito 43, Fornelli 41, Carovilli e Civitanova del Sagno 32. 32 casi ci sono anche ad Agnone. Il dottor Tartaglione, responsabile regionale dei medici di famiglia, chiede ad Asrem e a Regione chiarezza sui vaccini anti-influenzali. Decine di chiamati al giorno da parte degli assistiti senza che possiamo fornire risposte all'utenza, ha dichiarato ai nostri microfoni. Lo ha intervistato questa mattina nel suo studio di Monteroduni il collega Nicola De Santis. La Federazione Italiana Medici di Famiglia del Molise chiede alle autorità preposte di fare chiarezza sul vaccino anti-influenzale, poiché i professionisti sono subissati dalle telefonate degli assistiti, ai quali però non sono più in grado di fornire le opportune risposte. Il dottor Antonio Tartaglione, medico a Monteroduni e segretario regionale della federazione, si rivolge direttamente ad Asrem e Regione Molise per lanciare un appello. «Sappiamo che non si trova il vaccino. Regioni molto più importanti di noi, come la Lombardia, stanno molto peggio di noi fino adesso con i dati delle vaccinazioni. Lo leggiamo, lo vediamo tutti i giorni in televisione. Però il segnale che adesso serve con chiarezza, quindi perciò io dico, ci sta qualcuno che sa com'è la situazione, parli, informi, lo dica alla gente. C'è bisogno di un atto di chiarezza, di trasparenza, che significa anche un atto poi di fiducia da parte del cittadino. Perché se il cittadino gli si dice che entro novembre arrivano gli altri vaccini e finisce novembre non arrivano, quando poi gli si dirà che c'è la vaccinazione per il Covid, la stiamo organizzando in questo modo, dirà che sembra la solita storia, ma finì poi anche qui come per i vaccini dell'influenza. Allora, serve che qualcuno dei vertici aziendali e regionali dica davanti a tutti la situazione è questa. Perché, ripeto, qua nessuno vuole incolpare nessuno. Chi più di me sa le difficoltà con cui ci stiamo muovendo, ci siamo mossi nella sanità, in una situazione di emergenza di questa pandemia. Però serve dare un messaggio chiaro. I vaccini arriveranno, non arriveranno, stanno in ritardo. Siamo in grado di consegnarli fra 15 giorni. Dare delle informazioni chiare, anche perché, sinceramente, proprio è un peso dover rispondere a 10-20 telefonate al giorno di chi aspetta due o tre giorni e poi chiama di nuovo per sapere come sta andando la situazione, se è arrivato o non è arrivato. E noi, in prima linea, rappresentiamo, vogliamo esserlo. Non diciamo loro, diciamo noi, quando parliamo della sanità regionale. Quindi il cittadino, l'assistito nostro, ci individua come il primo livello del servizio sanitario regionale. E quindi arrivano a noi i complimenti quando le cose funzionano, arrivano a noi gli improperi e le incavolature quando le cose non funzionano. Restiamo sull'argomento perché sono 63 mila i vaccini contro l'influenza distribuiti in Molise, altri 9 mila sono appena arrivati e sono in distribuzione. A fornire i dati a Lanza è il presidente della regione Donato, Toma. Ma inoltre, Toma fa sapere che al quantitativo si aggiungono altri 15 mila prestati dalla Campania, per i quali, dice, siamo in attesa di consegna, oltre a 10 mila richiesti dalla protezione civile. E noi ci occupiamo di scuola, dell'aria apertura in presenza in Molise. Si va a Singhozzo per la FLC-CGL. Servono tamponi rapidi e interventi sui trasporti pubblici. Il segretario regionale, Pino Lafratta, richiama l'attenzione di Asrem e della regione. Dice che occorre un tavolo di lavoro condiviso. Noi siamo a disposizione. Lo ha intervistato Andrea Averto. Lo sentite. La scuola prova a tornare lentamente alla normalità, ma le riaperture a Singhozzo su tutto il Molise evidenziano tutte le criticità date dal difficile momento della pandemia. La volontà da parte degli operatori del settore è quella di tornare quanto prima la didattica in presenza. Per questo servono interventi mirati e immediati, come affermato dal segretario regionale della FLC-CGL, Pino Lafratta. C'è un grosso sforzo e un grosso lavoro da parte di tutti gli operatori della scuola, dirigenti, docenti, personale ATA, che si impegnano per riprendere le attività in presenza e in sicurezza. Questo non sempre accade, non sempre è possibile. È necessario intervenire per consentire che la scuola si svolga in sicurezza e in presenza. Noi sappiamo che abbiamo le scuole secondarie di primo grado, che sono oggetto a volte di provvedimenti di sospensione delle lezioni, molte volte da parte dei dirigenti scolastici, ma in realtà sono i sindaci che dichiarano questa sospensione. E avviene quando i dati epidemiologici non consentono una ripresa in sicurezza. È necessario però attuare dei protocolli condivisi e accelerare alcuni aspetti. Per esempio noi chiediamo che ci siano tamponi rapidi, abbiamo la necessità anche di accelerare i collegamenti con l'ASREM per fare in modo che le attività si possano svolgere in sicurezza. La sicurezza è la prima cosa, il diritto allo studio e il diritto alla salute devono andare di pari passo. Poi abbiamo la scuola secondaria di secondo grado. La scuola di secondo grado attualmente è a distanza e riteniamo che affinché si possa ritornare al più presto in presenza, quindi dopo il 3 dicembre, sarebbe necessaria tutta una serie di attività che in realtà ancora non sono svolte. In primis il rafforzamento dei trasporti. Se non si rafforzano i trasporti, se non ci sono degli interventi in tal senso, beh la vediamo difficile. Quindi è necessario prima di tutto assicurare queste azioni da parte degli enti locali, in particolar modo della Regione, per poi consentire una ripresa in sicurezza. La Regione Molise, come primo interlocutore necessario per garantire gli strumenti utili alla riapertura, l'ente però in affanno soprattutto per ciò che riguarda i trasporti. Di tempo dalle prime chiusure ne è passato, ma di interventi se ne sono visti pochi. Da un punto di vista locale non è stato fatto assolutamente nulla, soprattutto per quello che riguarda il piano dei trasporti. Noi sappiamo che in altre regioni, per esempio, si è dato luogo a un raddoppio di queste linee e laddove ciò non era possibile, almeno hanno noleggiato, per esempio, i trasporti, i mezzi delle linee private che assicurano di regole i collegamenti turistici che non si stanno svolgendo. In Molise, da quello che ci risulta, non è stato previsto nemmeno una linea aggiuntiva. Ci dicono che non ci sono risorse. Quando abbiamo chiesto, ma va bene, ma quante risorse comunque avete attualmente a disposizione? Ci è stato detto 300 mila euro. Ci sembra poco, ma anche questi 300 mila euro perché non vengono utilizzati da subito? Perché non si agisce da subito? Anche se le scuole superiori dovessero ritornare a gennaio in presenza, bisognerebbe muoversi ora, altrimenti ci troviamo nella situazione in cui a gennaio troveremo la stessa situazione attuale. E quindi affollamento sulle linee extraurbane, ma anche problematiche che interessano le linee urbane. Pensiamo ai collegamenti delle città un po' più grandi tra il terminal e le scuole superiori. Quindi è necessario muoversi da subito e chiediamo un tavolo di coordinamento alla Regione che tenga in considerazione appunto anche le parti sociali. Restiamo sull'argomento, ma spostiamoci ad Isernia perché un gruppo di mamme ha scritto al sindaco Giacomo D'Apollonio. Sentite Nicola De Santis. Alcuni genitori liberi professionisti Sernini hanno scritto una lettera al sindaco D'Apollonio per chiedere informazioni sulla ripresa delle elezioni in presenza alla San Giovanni Bosco e dalla Giovanni XXIII. I genitori chiedono di conoscere il numero dei positivi accertati con test molecolari e test antigenici eseguiti dai laboratori privati comunicati al comune, oltre al numero dei soggetti positivi riscontrati nell'ambito della popolazione scolastica. I genitori infatti dicono di essere a conoscenza del fatto che alcuni alunni risultati positivi al test rapido antigenico non siano censiti nei report elaborati quotidianamente dalla ASREM e che gli stessi non ricevano riscontri del contagio dall'autorità sanitaria competente. Dunque, l'isolamento dei contatti stretti sarebbe demandata solo al buonsenso e dal rigore morale delle famiglie. Peraltro, gli autori della missiva vorrebbero sapere quali misure di prevenzione il comune di Sernia abbia adottato durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, alla fine di garantire la ripresa dell'attività scolastica in presenza, in totale sicurezza. Infine, vorrebbero conoscere le ragioni che hanno comportato una valutazione dell'odierna situazione epidemiologica della città di Sernia, migliorativa rispetto a quella riscontrata in occasione dell'emanazione dell'ordinanza che chiudeva di fatto le scuole. E se la ripresa delle lezioni abbia tenuto conto delle difficoltà dell'azienda sanitaria a garantire un efficiente e tempestivo sistema di tracciamento. I genitori hanno voluto sottolineare che la lettera è scevra da qualunque finalità politica o partitica, avendo come unico interesse quello di conoscere le misure adottate per preservare l'incolumità della popolazione scolastica di cui i propri figli sono parte integrante. Il Comune di Montaquila informa che in accordo con Asrem tutti i cittadini che sono in quarantena o che sono stati a contatto con persone positive possono contattare il Comune e l'Ufficio di Polizia Municipale e segnalarsi. Gli stessi verranno inseriti in un elenco e avviati nel più breve tempo possibile ad effettuare il tampone presso il drive-in allestito dall'Asrem presso l'ospedale di Isernia. Installare il drive-thru mobile nei comuni molisani con maggiori contagi è la richiesta del vicepresidente del Consiglio regionale Filomena Calenda che attraverso una nota ufficiale ha richiesto al direttore generale dell'Asrem Florenzano e al governatore Toma di prendere in considerazione l'idea di attivare postazioni giornaliere nei centri molisani interessati da cluster di ampie proporzioni. In un'iniziativa ha dichiarato Calenda già sperimentata con ottimi risultati lo scorso 9 novembre a Castelpetroso. Ci occupiamo di cronaca perché i carabinieri di Termoli hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione messo dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso nei confronti di un cinquantenne termolese accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. il provvedimento è scaturito da una sentenza di condanna pari a tre anni e quattro mesi di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Campobasso. Le indagini hanno accertato che il cinquantenne all'interno di un locale da lui gestito organizzava sistematicamente incontri a sfondo sessuale tra i clienti dell'esercizio e alcune sue dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Il cinquantenne è stato tradotto presso la casa circondariale di Rieti dove dovrà scontare una pena residua di due anni e undici mesi. Ed è stato arrestato il conducente della BMW coinvolta nell'incidente che è costato la vita a Ennio Marrocco un operaio di 37 anni che vedete in questo scatto. La tragedia è avvenuta sabato pochi minuti prima delle 19 in una parallela di via Appia in zona Colle Cedro dove c'è stato uno scontro tra una BMW ed una Panda 4x4. Alla guida della BMW c'era un commerciante di Cassino con diversi negozi anche in Molise in particolare a Disernia mentre sulla utilitaria Fiat la vittima nella nottata ai risvolti dell'indagine il conducente della BMW un 37enne come dicevamo commerciante di Cassino ma con interessi commerciali anche in Molise in particolare a Isernia sarebbe stato trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito per questo è scattata l'accusa di omicidio stradale e quindi l'arresto. Ancora la cronaca controlli antidroga a Casa Calenda è stato controllato in particolar modo un ventenne che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una decina di grammi di marihuana grammi di marihuana che erano stati occultati nella sua auto poi la perquisizione è proseguita anche a casa del giovane del ragazzo dove i carabinieri hanno trovato altra droga una ventina di grammi oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Questa mattina i carabinieri della stazione di Monteroduni in collaborazione con gli artificieri dell'undicesimo reggimento guastatori di Foggia hanno fatto brillare in una totale cornice di sicurezza due bombe da mortaio americane rinvenute in una contrada del paese le state vedendo in questo scatto l'arma dei carabinieri comunicano dal comando provinciale svolge costantemente attenta vigilanza volta a prevenire potenziali gravi pericoli per la popolazione che dipendono dalla presenza di numerosi ordini bellici in un'area che è stata teatro di aspri scontri nel secondo conflitto mondiale. Ed ora veniamo al comune di Campobasso perché il Consiglio Comunale questa mattina e in riunione appunto questa mattina ha approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 l'assessore al bilancio Giuseppina Panichella ha dichiarato che l'amministrazione è consapevole che le decisioni di oggi avranno riflessi sul futuro il Consiglio si è occupato inoltre della ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed è l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019 la variazione al bilancio è utile per consentire il corretto svolgimento dei progetti e degli adempimenti obbligatori fino al termine del corrente esercizio ha aggiunto l'assessore al bilancio Giuseppina Panichella che vedete in questa immagine e domani mattina alle 11 in conferenza stampa il sindaco Gravina presenterà il nuovo comandante della polizia municipale la presentazione avverrà presso la saletta civica al piano terra di Palazzo San Giorgio il nuovo comandante della polizia municipale di Campobasso è Luigi Greco che vedete in questa immagine proprio insieme al sindaco Gravina che ne approfitterà anche per illustrare la nuova macrostruttura dirigenziale del comune capologo di regione bene è davvero tutto ora vediamo che tempo farà domani sulle Molise con il nostro meteo previsioni del tempo per martedì primo dicembre sul Molise in arrivo correnti umide che favoriranno un graduale incremento della copertura nuvolosa i venti saranno deboli mare poco mosso queste le temperature nel dettaglio Campobasso minima 3 massima 9 gradi Sernia minima 3 massima 10 gradi Termoli temperature comprese tra gli 8 e 15 gradi Venafro minima 2 massima 11 gradi è tutto per questa edizione l'informazione in diretta torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante ora linea alla regia tra pochissimo la pagina sportiva parleremo di basket femminile di serie A con le immagini della gara di ieri tra Sesto San Giovanni e Magnolia e poi parleremo anche di calcio di serie D perché ci sono stati due recuperi ieri vi faremo vedere le immagini del successo della Re Canatese e del pareggio tra Aprilia e Vastese a tra pochissimo lo sport il basket di serie A femminile vediamo con la nostra grafica i risultati della nona giornata Luca Broni rinviata le altre gare invece si sono giocate regolarmente Costa Marsnaga Dinamo Sassari 76 a 57 Empoli Vigarano 79 a 62 San Martino Lupari Schio 56 a 76 Sesto San Giovanni La Molisana Campobasso 89 a 73 Venezia Ragusa 92 a 65 Virtus Bologna Battipaglia 102 a 69 La classifica Venezia in testa con 18 punti poi Virtus Bologna Schio 14 Costa Masnaga 10 insieme a Empoli Sesto San Giovanni 8 Ragusa 6 insieme a la Molisana Campobasso e a San Martino Lupari Dinamo Sassari 4 con Broni Lucca 2 punti Vigarano e Battipaglia ancora Zeno ma ci sono delle gare ovviamente da recuperare e allora sconfitta con onore a Sesto San Giovanni per la Molisana Magnolia Campobasso poche rotazioni a disposizione di coach Sabatelli non è bastato il cuore alle Rosso Blu ci racconta tutto Vincenzo Ciccone Secondo stop in successione per la Molisana Magnolia Campobasso dopo la battuta d'arresto interna con la Virtus Bologna le Rosso Blu sono cadute ieri a Sesto San Giovanni contro la Geas non senza aver lottato e messo gran cuore in campo con le sole sette rotazioni al momento disponibili e con il trio Liskens Ostarello e Voigt ancora out il meno 16 finale registrato dall'89 al 73 apparso sul tabellone luminoso dell'impianto Lombardo è infatti figlio della stanchezza conclusiva di un gruppo che pur commivendo con l'attuale difficile esitazione ha saputo tenere testa alle proprie avversarie cui si è avvicinato in più di una circostanza nonostante tentativi di strappo delle Lombarde dopo un 7-0 in avvio in favore delle rossonere è buonasì a rintuzzare le padrone di casa con Bove che firma il meno 1 dell'11-10 poi però con un break finale il quintetto ospitante arriva sino al 23-16 del decimo nel secondo periodo la formazione Lombarda arriva sino al massimo vantaggio del più 18 38-20 ma qui man mano con la zona 3-2 ordita da coach Sabatelli e con la leadership regia di Gorini che arma Sanchez e Mancinelli le rosso-blu si riportano sino almeno 12 dell'intervallo lungo 45-33 a rientro agli spogliatoi le Magnolie si avvicinano ulteriormente alle proprie avversarie Mancinelli Marangoni e Gorini riportano le Campobassane sino almeno 8 del trentesimo 61-53 in avvio di quarto periodo è Giardina a farsi notare e Campobasso tiene botta sino a 6 minuti circa l'ultima sirena qui le forze finiscono col venire meno il divario si amplia sino all'89-73 conclusivo con la certezza però di un gruppo pronto a far sentire con forza le proprie qualità sul torneo di A1 una volta sistemate tutte le problematiche fisiche intanto domenica all'arena ci sarà il confronto con il San Martino di Lupari ed ora il calcio il calcio di Serie D dicevo che nel raggruppamento a F ieri ci sono stati due recuperi la Re Canatese ha vinto e convinto e conquistato la vetta della classifica vediamo più che una partita è stato un autentico monologo della Re Canatese che ha dominato in lungo e in largo il match contro Urrieti che dovrà dal canto suo lavorare parecchio per essere davvero competitivo al netto di un paio di sbavature da cui sono scaturite le uniche due opportunità per i laziali sono stati 90 minuti impeccabili per i giallorossi che mordevano il freno dalla voglia di giocare ed hanno scaricato sul campo questa voglia sin dalle prime battute la cronaca il confronto si sblocca subito gli ospiti non toccano praticamente palla con Gomez che appoggia su Pezzotti traversone per la testa di Liguori e sulla ribattuta Senigalliesi conclude facilmente in rete è sostanzialmente un dominio dei padroni di casa lancio dalle retrovie per Pera che mantiene il pallone in campo e cerca di sinistro il palo lontano non trovandolo di un soffio gli ospiti ci provano con Giordano Fioretti che ha una buona chance dopo un'azione insistita ma spara alle stelle è però un episodio isolato Liguori innesca in profondità Pera Saglietti è magistrale nel respingere poi Gomez non riesce a trovare il modo per concludere c'è da aspettare poco per il raddoppio è il 32esimo ottimo lavoro di Pera sulla destra traversone sul quale rompe sbaffo che di piatto gonfia la rete come si suol dire la Re Canatese in assoluto controllo ma dopo un errore in disimpegni laziale avrebbero la palla per accorciare le distanze tuttavia De Chirico è reattivo sulla botta di Tirelli da ottima posizione il Rieti cerca un po' di stringere i tempi ad inizio ripresa ma le sue buone intenzioni terminano definitivamente al dodicesimo quando su traversone di Liguori Pera riesce a toccare quel tanto che basta per far scivolare il pallone in rete con il difensore Orchi poi che completa l'opera il match finisce qui con i leopardiani che sfiorano più volte il poker angolo di Pezzotti testa dell'ottimo Brunetti con il portiere che devia sopra la traversa al ventesimo c'è una leggerezza di Donzelli Fioretti si invola verso la porta ma il suo diagonale termina al lato di un soffio al ventottesimo velocissima ripartenza di Pezzotti cross per Pera ma Saglietti si guadagna la palma di migliore dei suoi sventando in corner poi più nulla con il Rieti a cercare vanamente la prima rete stagionale e la Re Canatese a giocare quasi sul velluto divertendo e divertendosi mostrando tutte le grandi potenzialità di cui è in possesso è terminata invece 3 a 3 l'altro recupero di ieri relativo alla quinta giornata recupero che ha visto in campo Aprilia e Vastese con l'undici di Mister Silva che si morde le mani per quello che sarebbe potuto essere e non è stato avanti infatti al ventiduesimo grazie a Bernardi la formazione abruzzese raddoppia con lo stesso giocatore undici minuti dopo e con il 2 a 0 per gli ospiti si chiude la prima frazione avete visto entrambi i gol nella ripresa al cinquantunesimo Aglietti riporta sotto i pontini per il momentaneo 2 a 1 poi al cinquantasesimo Bernardi completa la propria tripletta con la complicità della retroguardia di casa dunque 3 a 1 per la Vastese ma sul finale l'aprile rientra l'ottantaquattresimo De Marco segna il secondo gol intanto viene espulso l'allenatore della Vastese Massimo Silva come vedete dalle immagini dicevo all'ottantaquattresimo De Marco segna il gol del 2 a 3 mentre in pieno recupero al minuto 91 a firmare il pareggio del definitivo 3 a 3 è l'ex Juventus Oliveira sul calcio piazzato e dunque conti pareggiati 3 a 3 è terminata la gara tra la formazione di Massimo Silva la Vastese e l'Aprilia ed in virtù di questi risultati andiamo a vedere la nuova classifica con l'Ari Canatese che come vi dicevo conquista la vetta della gradatoria pari punti con il San Nicolò a quota 14 l'Aprilia resta a 3 punti il Rieti a 2 che ha perso mentre la Vastese sale a quota 6 dunque questi i risvolgono dopo i due recuperi di ieri è davvero tutto anche con la pagina sportiva grazie per aver scelto la nostra informazione e buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci grazie per aver guardato grazie per aver guardato